Salve a tutti ragazzi, sono Mattex e bentornati qui sul mio canale. Oggi un nuovo episodio della Carriera Natura con il Genoa su IA21 con tre partite molto importanti. Vedremo Elas Verona, come avete visto già da grafica e da calendario. Vedete anche il ritorno contro Borussia Mönchengladbach per gli ottavi di finale di Europa League e l'Inter per il campionato. Inter che non sta facendo benissimo in campionato, le prossime partite di campionato invece saranno un pochino più forse alla portata del nostro Genoa. Con l'Inter sicuramente sarà tosta, con l'Elas Verona forse un po' meno, ma l'Elas Verona che cerca sicuramente di far punti perché appunto non vuole essere tra le ultime tre. L'Inter cerca un posto in Europa League, cerca l'aggancio al quarto posto per la Champions dove ci siamo appunto noi. Quindi episodio molto molto importante in chiave anche qualificazione europea. Gettiamoci però prima di tutto in Genoa e Las Verona a caccia di tre punti che ci servirebbero molto. Ecco il Genoa che schiera Orozco in porta, difesa a quattro, ormai la conoscete. Pellegrini, Bastoni, Benkovic con Ghiglione, terzino destro. Siamo passati alla 4-3-3 con Nainggolan e Van Ginkel per Eira sulla tre quarti. Attacco a tre con Sacubara. Felipe Anderson sulle fasce, Scamac al centro. Squadra molto molto rimaneggiata perché appunto ci troviamo tante partite davanti e tante partite molto importanti. Quindi un po' di turnover va fatto. Forse qui ne abbiamo fatto eccessivamente. Lo vedremo sicuramente a fine gara però servono anche giocatori pronti. Servono anche giocatori che riescano a far vedere le proprie qualità come giocatori della primavera. Lovato, Ayer e Gunter per il Verona, Vitale, Tamesa, Rugg e Faraoni al centrocampo. Con Sporar e Di Nenno. Dietro l'unica punta che è Nzame. Comincia Genoa e la Sverona. Scamacca prova a girarsi e trova Van Ginkel. Van Ginkel deve allargare in qualche modo. Van Ginkel aspetta però serve al centro. Scamacca! Che calcio al volo. Silvestri allunga la palla in corner. Sporar per Nzame. Palla troppo lunga. C'è Riorosco facile con le mani. Poi allarga per Ghiglioni. Ghiglioni da uno sguardo. C'è Felipe Anderson da solo. Il pallone vola. E vola anche Felipe Anderson. Al centro c'è Van Ginkel. C'è anche Scamacca. Felipe Anderson basso per Scamacca! 1-0. E il Genoa passa in vantaggio. Alla 31esimo minuto. Con Gianluca Scamacca. Che vuole sicuramente mettersi in mostra. Per un posto in attacco. Lovato intercetta. Felipe Anderson recupera ancora Pereira Scamacca. Pereira può andare in velocità. Deve saltare Farone. Ci riesce Pereira. Basso per Scamacca! La palla resta lì. Dopo il tocco con la mano di Silvestri. Non ci arriva. La difensore ci arriva invece. Gianluca Scamacca per la seconda volta di Nenno. Prova a saltare Pellegrini. Ubriacarlo. Tocco per Faraoni. Rugge. Ancora Faraoni. Da solo Faraoni! E col destro trova un varco. Scoperto. Difesa che lascia spazio libero a Faraoni. Orozco non ci arriva. Ed Hellas riapre la partita. Zecnini. Cerca dei compagni. C'è Rugge. Ancora per Zecnini. E da solo calcia col destro! 2-2. Alla 91esimo minuto. Arriva il pareggio dell'Ellas Verona. Secondo tempo molto meno bello rispetto al primo della Genoa. Tocco in avanti. C'è Pessina che calcia al volo. Non c'è però più tempo. Finisce qui. 2-2. Arriva un altro pareggio. E il decimo di questa stagione per il Genoa. Arriva solamente un punto. Avevamo la vittoria in tasca nel primo tempo. Non siamo riusciti però a gestirla. Non siamo riusciti a gestire la gara. Questo sicuramente anche un po' viziato dalla tanta inesperienza che avevamo comunque oggi. Abbiamo avuto un cambio di modulo solamente nello scorso episodio. Tanti giocatori riadattati. Tanti giocatori anche che non hanno mai giocato assieme. Ad esempio c'è stato anche il debutto da titolare per Sakubara. Però ci portiamo a casa a questo punto comunque. Pessina che è contento di tutte le presenze che gli stiamo facendo fare. Grazie a te Pessina. Siamo contenti noi a vederti lavorare. Sodo mi riempie d'orgoglio. Continua così. In futuro ci sarà sempre più spazio per te. Pessina è uno di quelli che io confermerei per la prossima stagione a centrocampo. Assieme sicuramente a Anciam e a Nainggolan. Avrei il dubbio per Van Ginkel. Qui inizio a chiedere a voi. Se eventualmente cederlo oppure no. 30 anni. È arrivato a zero. Potremmo farci sicuramente una plus valenza. Magari 7, 8, 10 milioni riusciamo a ricavarceli e possiamo andarli a investire per il prossimo centrocampista. Tra l'altro, prossimo centrocampista, io sto pensando già a qualche nome. Ci servono almeno due innesti. Io stavo pensando a Sunsao e a Locatelli. Questi potrebbero essere i due miei acquisti per il centrocampo. Se avete suggerimenti vi invito ovviamente a lasciarli qui sotto nei commenti. Mi raccomando centrocampo e Terzini perché Terzini non ne abbiamo. E abbiamo licenziato il nostro osservatore per prendere Federico Giordano. 4 stelle di esperienza, 5 stelle di giudizio. Sperando ci trovi qualche talentino in più. Magari in Polonia proprio. Visto che noi alleniamo la Polonia. Ci stiamo qualificando per le prossime competizioni. Stiamo facendo bene. Dobbiamo trovare sicuramente qualcosina in più. E questo può arrivare sicuramente anche dalla primavera della Genoa come appoggio. Poi oltre al Messico manderei anche un nostro osservatore in Lituania. Avete consigliato la Lituania per qualche giocatore molto molto forte? Proviamo perché no tentiamo la Lituania per i nostri osservatori. Assieme a Polonia e Messico. Genoa che scende in campo dopo il 3-0 dell'andata. Con questa formazione Bastoni, Ramani, Navas e Pellegrini in difesa. Nainggolan, Le Rager, Guidi a centro campo. Piazza, Bosenik e Martín davanti. Con Orosco confermatissimo in porta. Martín provato sulla fascia destra. Lui che fa anche l'alla destra. Ma oggi lo proveremo per la prima volta nella 4-3-3. Questa è la formazione degli ospiti. Con Gagnon, Ta, Mario Gasparo, Paso, Paolinho, Kramer, Alvarado, Breccalo, Hoffman e Mopè. Con Sommer in porta. Formazione molto molto interessante. Tanti, tanti giocatori da seguire. Kramer a centro campo potrebbe essere un obiettivo della Genoa. Comincia. Genoa, Borussia, Mönchengladbach, Hoffman per Alvarado. Mopè da solo. Mopè però deve aspettare Kramer. Di tocco ancora avanti per il la francese. Mopè da solo per Orosco. E poi Bastoni in qualche modo spazza. La palla era rimasta lì. Rischio davvero molto molto alto per il Genoa. Opaso, adesso Paolinho. Borussia che pressa. Ancora Paolinho. Prova a saltare anche Martín. Tornato indietro per difendere. Opaso. Quindi Breccalo. E con le finte prova a breccare il difensore. C'è Opaso che può andare se forse è fermato da Navas. Ancora l'ex giocatore del Siviglia in pressione. Breccalo. Deve provare a crossare. Deve provare a trovare qualche uomo al centro. Breccalo torna indietro da Opaso. Possesso palla. Pazzesco del Borussia Mönchengladbach. Hoffman per Kramer. Ramani chiude. Benissimo. E fa ripartire il Genoa. Sulla destra c'è Martín. Sulla sinistra c'è Piazza. La palla è proprio per l'ex giocatore della Juventus. Piazza può andare al centro dove c'è Guidi. Aspetta. Sterza. Cross per Guidi. Palla fuori. È deviata in corner. Si ripartirà dalla bandierina. Veragher fermato. Mopey. Hoffman. Breccalo è da solo. Breccalo ha spazio davanti a sé. Breccalo deve saltare Ramani. Non lo salta però. Ramani. Un'altra chiusura pazzesca in questa partita. Siamo già a tre. Ramani lancia in avanti. Guidi che stoppa ma viene fermato. Poi recupera comunque il pallone. Nainggolan. C'è Bosenich che è da solo. Chi chiama pallone? Bosenich è da solo. Calcia con il mancino. Sommer. E poi palo e Nainggolan. Commette anche fallo. Kramer. Per l'ultima azione del primo tempo. Hoffman. Mopey da solo. Bastoni. Attenzione perché gli regala il pallone. Mopey da solo. E trova anche il gol. 0-1. Borussia Mönchengladbach che ritorna in partita. In questo primo tempo. Adesso mancano due gol. Per andare quantomeno ai supplementari. Palla Hoffman. Borussia Mönchengladbach che cerca di tornare ancora di più in partita. Hoffman. Mopey ancora. Mopey. Calcia. Orosco. In qualche modo. E il Genoa che resta con il vantaggio di due gol nel totale. 3-1 ancora per la squadra rosso-blu. Cross in mezzo di Alvarado. La palla resta su Zaccaria. Bosenich può ripartire. Trova un varco. Lo trova per Nainggolan. Poi può lanciare Piazza. Palla avanti per Guidi. Ripartenza fulmina del Genoa. Piazza è da solo. Adesso davanti ai difensori. Salta anche loro. Piazza in mezzo per Martin. La chiude. Henry. Martin. Che mostra il fisico. Che esultanza per Henry Martin. Che risponde un po' così con questa varietà le critiche. Turam. Il cross. C'è Nainggolan che prova a intervinire di testa. Ancora Turam. Il cross al centro. C'è Alvarado. Martin. Vola. E spazza di testa. Poi Giorgi fa ripartire l'azione per Piazza. Guidi. Genoa che può di nuovo andare in contropiede. Bosenich. Forse l'ultima azione della partita. Bosenich è da solo. Davanti a Sommer. Per il primo gol. Cross al centro. Basso per Chuck. Betazzi. Giorgi. Segna la rete del 2-1. Segna la rete che chiude definitivamente il discorso ottavi di finale di Europa League. E porta così il Genoa ai quarti. Qui azione pazzesca in contropiede. Bosenich che poteva cercare il primo gol con la maglia del Genoa. Poteva anche cercare Guidi. Ma ha preferito andare in mezzo. Sul sicuro. Su Giorgi. Secondo gol in Europa League per lui. E si riparte dalla 2-1. Ma non c'è più tempo per il Borussia Mönchengladbach. Finisce qui la partita. 2-1. 5-1 nel totale. E il Genoa ai quarti di Europa League. In attesa del sorteggio. In attesa di scoprire anche chi ha passato il turno. Lo vedremo sicuramente a fine partita. I giocatori del Borussia Mönchengladbach non soddisfatti della loro prestazione. Avrebbero dovuto fare fuoco e fiamme. Al settantesimo hanno avuto l'occasione per andare sul 2-0. E quindi riaprire in maniera ancora più larga la gara. Perché sul 2-0 ne mancava solo più uno per andare ai supplementari. Ma al settantaduesimo ci ha pensato Martin. L'uomo Europa League. E poi Giorgi. Al nofantesimo. Chiudere il discorso qualificazione. Passano il Siviglia con il totale di 4-0 sul Monaco. Abbiamo visto anche il Benfica. C'è l'Everkusen. L'Offenheim. Il Wolverhampton. Leicester che passa con 4-2 sul Lille. Ecco forse la scuola che mi fa più paura è il Leicester. Perché l'Eicester ha fatto veramente un sacco, un sacco, un sacco di gol. E ha un sacco di marcatori. Quindi questo che mi intriga un po'. Andiamo a vedere se eventualmente ci sono i sorteggi. No. Non ci sono ancora i sorteggi. Quindi non ci resta che aspettare eventualmente il giorno dopo. O magari la gara in attesa dell'Inter. Perché ci manca appunto la gara contro i Nerazzurri per questo episodio. Per il mio torneo che ci è arrivato. Quindi in teoria i sorteggi li hanno fatti. Ma non ce li hanno mostrati. Darei ancora eventualmente un'occhiata. Ma non mi pare di vedere nulla. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Non c'è ancora... Non ci sono ancora i sorteggi. Direi di andare direttamente al calendario per vedere il nostro prossimo avversario di Europa League. Ed è il Chelsea ragazzi. È il Chelsea per i quarti di finale di Europa League. Dovremmo affrontare i Blues. Qua è tosta. Qua è tosta, 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 tosta. Dovremmo affrontare, secondo me, la squadra favorita alla vittoria di questa Europa League. Assieme all'Eister, assieme al Wolverhampton. Ci sono veramente tante squadre molto forti. Wolves contro Offenheim. Leicester Leverkusen, Siviglia Benfica e Genoa Chelsea. È tosta. Tra l'altro la prima in casa nostra. Quindi ci va anche male quello. In Champions, chi c'è? Perché sono tutte le forti. Sono qua. Bayern Liverpool, Lyon e Napoli. Tottenham City. Anche lì comunque non ci sono squadre proprio deboli, deboli. Torniamo a San Siro per affrontare l'Inter. Pavlenka in porta per i Nerazzurri. Cialetazzar, Dias e Mestresa in difesa. Quattro a centrocampo con Guerreiro, Soucek, Gheye e Politano. Sulla tre quarti Witzel. E due d'attacco formato da Richarlison e Nesiri. Formazione che abbiamo usato spesso, no? Il 3-4-1-2. Abbiamo usato per quasi tutta la carriera con il Parma. Gran parte di questa carriera con il Genoa. Ma poi qualcosa andava cambiato. Abbiamo visto che cambiando il modulo, il Genoa comunque ha ripreso a carburare gol e punti. Soprattutto in chiave Champions League. E questa è la formazione che schiera oggi. Squadra di Mr. Mattax. Per in, in porta. Difesa a quattro. Con Pellegrini-Glione sulle fasce. Giannetti Comara al centro. Centrocampo a tre con Pessinan, Ciam e Pereira sulla tre quarti. Attacco a tre. Con Nelson sulla sinistra. Felipe Anderson sulla destra e Belotti al centro. Comincia a San Siro. Inter a Genoa. Gara fondamentale per l'Europa. Fondamentale per Europa League e Champions League. Pellegrini per Pessina. Riparte Danciam. Può allargare per Ghiglione. Chiama a palla Felipe Anderson. Però in fuorigioco. Allora tocca per Pereira. Che può andare alle spalle dei difensori. Ancora Pereira. Calcia con il destro. Mateus Pereira. Trova un varco. Quasi impossibile. Per quel tiro. Pavlenka non riesce a fermarlo. E il Genoa passa in vantaggio. Pereira recupera un ottimo pallone. Su Cialetta Zarra. Il cross al centro per Belotti. Che si gira al volo con il mancino. Palla che finisce al lato del palo. Felipe Anderson può andare. Deve saltare. Tutta la difesa. Pessina allarga il centro per Belotti. È da solo Belotti. E non tira molto bene. Calcia su Pavlenka. Intanto entra Kimi. Per l'Inter. Felipe Anderson il cross al centro. Adesso c'è Belotti. Arriva Anciama. Che controlla Anciama. Può fermarsi. La finta su Witzel. Ancora Anciama. E calcia col destro. Witzel. Per Akhimi. Tocca uno dei suoi primi palloni in questa partita. Akhimi. Può saltare per le grini. Ci riesce Akhimi. Ancora da solo in ala. Akhimi. Destro. Anzi Mancino. Arriva Perin. A metterci le mani. Ancora 0-1. Ancora Genoa in vantaggio. Prima chance per l'Inter nel secondo tempo. Socek per i Charleston. Ancora Socek. Vecchia conoscenza di Mr. Matt. Xalla Parma Ghiglione. Interviene sulle gambe di Richarlison. Qui può arrivare anche un brutto provvedimento. Nei confronti del numero 18 rosso blu. Però Richarlison aveva l'occasione per andare quasi da solo in contropiede. sulle Genoa. Era una delle ultime azioni di questa partita. Ammonito Paolo Ghiglione. Forse poteva stare anche qualcosina in più. I tifosi protestano. Questo è il fallo. Cambio intanto per il Genoa. Dentro piazza. Sulla sinistra. Vedere velocità. Gross al centro. Vizze di testa. Per Perin. È facile. La parata. Finisce qui. 0-1. Passa il Genoa a San Siro. Con un gol molto molto bello di Pereira. Ma con poche occasioni da entrambe le parti. Parita noiosa su tanti punti di vista. Ma alla fine quello che conta è il risultato che porta a casa il Genoa. Tre punti molto 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 importanti per la continua lotta alla quarto posto. Adesso tra l'altro Pereira si è bloccato un attimo. Ha sentito terzo posto, quarto posto. Ha detto calma calma. Ha fatto solo gol. Non voglio nient'altro. Andiamo nella nostra schermata principale. Per vedere anche la classifica di questa serie A. Io ragazzi non andrei più avanti. Andrei poi avanti nel prossimo episodio. Vedendo Ungheria e Spagna. Con la simulazione magari anche veloce. Ma nel prossimo episodio per concentrarci bene. Per farci bene la formazione assieme. Tanti allenamenti da fare nel mezzo. Sia prima che dopo le partite. Nel prossimo episodio però vedremo Benevento. Benevento, Chelsea e Sampdoria. Tre partite molto importanti. Bisogna fare sei punti in campionato e bisogna portare a casa il risultato contro il Chelsea. Anche solo 1-0-0. Ma dovremo provare in qualche modo ad impedire al Chelsea di portare almeno un gol a Stamford Bridge. Intanto questa è la nostra classifica. Napoli prima con 69. Poi la Juventus con 67. E c'è il Genoa a 58. Terzi in serie A. 55 la Lazio. 54 poi la Fiorentina. 50 il Milan. Eccetera eccetera. Noi ci stiamo sempre di più distaccando dalla Fiorentina. Siamo a 4 punti dai Viola. A 3 dalla Lazio. Abbiamo tanto tanto ancora da dare a questo campionato. Abbiamo ancora tanto tanto da fare. La prossima tra l'altro c'è Fiorentina-Inter. Ogni gara anche lì molto molto importante. Il Benevento tra l'altro è penultimo in classifica. Quindi potremo anche dare un occhio magari con la simulazione veloce alla partita. Per andare sempre di più verso il traguardo Champions League. Però vedremo. Essendoci solamente 3 partite. Probabilmente le giocheremo tutte e 3. Io vi invito qua sotto nei commenti a farmi sapere cosa ne pensate di questo episodio. Vi ricordo che lunedì uscirà il Best Moments di tutte le clip di un anno e mezzo di attività fatta sulla piattaforma Viola. Vi invito ovviamente a passare a quel video e attivare le notifiche per non perdervi assolutamente nulla. E con la cuffia che mi cade vi saluto. Vi ringrazio. Vi do appuntamento alla prossima. Sempre qui sul mio canale YouTube e sulla piattaforma Viola stasera in live. Vi aspetto. Vi aggiorno poi su Instagram, su Telegram. Abbiamo il gruppo Telegram. Qui sotto in descrizione c'è tutto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.